Come sempre più bravi! Senti il mullinello come canta, non chiudere troppo eh, è grosso, è grosso sto qua. E c'è il corrente anche, ti sta portando via, tu vai tranquillo, fai abbastanza filo lì, un po' puoi andare in giù ma non tanto eh, bravo bravo, Riccardo ok, ok, beccato eh, tieni, tieni duro Riccardo, tieni duro Riccardo che c'è. Vai vai Riccardo, dai che c'è Riccardo, pompa, pompa, è grosso sto qua, è grosso. Vai Riccardo, non volare, hai due volte qui. Parca miseria! Ma si è incastrato, tieni, tieni. Si è incastrato, secondo me, sul fondo. Prendi la canta, porta quella lì. Eh, come fai, ormai è troppo in là, è troppo in là, non ce la fai più, no, non ce la fai più. Ah, perché si è sotto, no, si è rotta. Si è rotta, si è rotta. Si è rotta eh. Si è spaccata. Io pensavo che è uscita fuori. Prova lo stesso Riccardo, provalo. Non mollo. No, no, non mollare. Intanto non si rompe più di là eh. Non si rompe, ah, è dura. Porca miseria, anche questa. Se si spacca il filo lo perdi quello eh. No, sta buono. Guarda che... Eh, ma attento al rapio eh. Attento che se cadi ti fai del male lì. Mettilo in un posto sicuro che... Mettilo in un posto sicuro che... Così non nega lui, così non ci stanno la mano. Come cazzo a porta non persi quella caglia? Eh, ma è grosso questo pesce. Eh? Dai che è stanco Riccardo! Mi sei lo calzo. Sì, ma anche il canale... Anche il canale è caldo. Aspetta, aspetta. Che? Va bene. Ma non sarà neanche il grande lui. Eh no, ma che è? Quando vengono chiedi del male. Eh... Stanno andando al male. Sì. Perché se si fa il nodo... Oh! Se si fa il nodo è un casino. Tagli, tagli, taglialo lì. Taglialo. È come... Io non ho le forbici qua. Non tenere perché basta. Guarda qua dentro quelle blu sono le forbici. Basta, basta. Ce l'ha fatta? Sì. Il raffio dove? Il raffio è qua. Prendi il raffio. Metti giù la canna. Quella lì, lasciala giù. Prendi il raffio. E attento a non farti del male. Questo se lo prendiamo la manchiamo, eh? Eh sì. E' spattato la carta. E' spattato la carta. E' spattato lì. Spattato, eh? Spattato. 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 Ma a me lo voglio vederlo, eh? Eh sì. Bisogna. Eh beh, grosso sarà grosso sicuro perché... Piccolo non è. Attento, attento. Tu tieni... Tieni duro, ok? E' lì, è lì. E' lì, è lì. E' lì, è lì. Attento che c'è un legno lì. Riccardo, lì c'è un legno, eh? Eccolo là, eccolo là. Lo vedi? Lo vedi la coda? E' enorme, enorme. E' venuta fuori la coda. Che era... Era tre metri più in là la coda. Che mi donna, mamma. Questo qua è enorme, eh? Questo qua è enorme, eh? Riccardo. Eh sì, questo qua è enorme. Eh che grosso. Questo qua è enorme. Preso. Ok, bravissimo. Vieni in due, in due! Go! 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 Bastardo! Quanto è? 110. 1,10. Nella pancia. Lunghezza? Fai la lunghezza totale ancora. 2,40. 2,40. Ma riprendilo che faccio il filmato. Occhio che ti taglia adesso, eh? Taglia la caccia. Eh, come fai? Come ha fatto la caccia? E' la rete. Eh, basta appena appena. Questo qui è il metro da tre, eh? Tra un po' non ce n'era più. Riccardo. Riccardo, non stai bene lì. Ma ormai... Riccardo ha perso, ha perso la... E' capace... Sarà, sarà 80 kg di più. Come fai a tenerlo? Più meno 90 kg. Sì, sì, anche di più, forse. Va. Basta? Basta. Ciao. Lo molli tu, eh, Riccardo. Mollalo tu. Il gatto, il gatto. Il gatto, il gatto. Il gatto, il gatto, il gatto. Farò io a una canna. Stai spaccato in due una canna. Una penna o un marco? Una penna. Una penna. Il gatto. Il gatto, puoi andare. Lascialo da solo un po', lascialo. Lascialo, lascialo così. Eh, è già andato lui. No, non si riprende. Si riprende il bastardo, eh. Ora che questo lo tieni senza acqua, allora. Basta. A dopo! Sì. 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 Sì.